Si è conclusa l'indagine che ha messo fine ad Erche, all'amministrazione comunale guidata da Pasquale Nicolì. La procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco e di altri sette imputati, gli ex assessori Vito Bernardi, Pamela Melechi, Giuseppe Polito e Lino Ferrara, l'ex responsabile dell'area tecnica del comune ciriaco Pasquale, Cosimo Destradis, accusato di abbandono di rifiuti, e poi il nome senza dubbio più clamoroso, quello del sociologo antimafia Leonardo Palmisano. I reati ipotizzati vanno dalla concussione agli atti persecutori, all'abuso d'ufficio, oltre che alla falsità ideologica e alla induzione indebita. Si procede anche per un presunto episodio di violenza sessuale di cui è accusato Bernardi. La richiesta di rinvio a giudizio è a firma dei PM Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro. Il GUP Simone Orazio ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 16 aprile. Le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione e del NOR Compagnia di Francavilla Fontana sfociarono lo scorso 9 gennaio negli arresti domiciliari per Nicoli e Bernardi. Fra i dieci soggetti individuati come persone offese, vi è anche l'amministrazione comunale di Erchie, che dallo scorso 23 febbraio è guidata dal commissario prefettizio Antonio Giaccari. Grazie. Grazie.